Una giornata importante per la città. Il 7 febbraio si insedia ufficialmente Monsignor Gianfranco Agostino Cardin, nuovo Vescovo di Treviso. La diocesi ma tutta la comunità religiosa si sta preparando a questo importante momento. Il Vescovo partirà dalla Basilica del Santo perché Padova è stato sull'ultimo periodo di permanenza in Veneto come direttore del Messaggero di Sant'Antonio. Era il 2010 quando Agostino Cardin di San Polo di Piave diventava Vescovo di Treviso. Un ministero durato fino al 2019 quando arrivò il suo successore Monsignor Michele Tomasi. Da quel giorno il Vescovo Emerito si ritirò dalla vita attiva sostenendo quando occorreva però l'attività della diocesi e dal 2022 visse nella casa del clero dove affrontò la progressiva fragilità del corpo fino a ieri pomeriggio alle 16 quando dopo aver compiuto 80 anni è tornato nella casa del padre. Un ministero discreto il suo per certi versi profondamente diverso dal suo predecessore Monsignor Andrea Bruno Mazzocato più vicino alla visione conventuale ascetica ma anche profondamente teologica che l'ha visto nel corso degli anni impegnato nell'approfondimento delle Sacre Scritture. Uno studio poi applicato al quotidiano come nella riflessione sulla giustizia sociale come messaggio pasquale di 12 anni fa. Riflettendo seriamente su come si deve mettere in atto una autentica giustizia perché questa è una grande direi esigenza anche della Pasqua che porta il messaggio della fraternità. C'è speranza per tutti se c'è nello stesso tempo attenzione a che tutti davvero possano usufruire dei beni della terra di tutto ciò che le risorse umane possono mettere a disposizione. Riflessioni più che mai attuali per un vescovo che ha consegnato la storia travisiana la visione di un cristianesimo meditativo, messaggio decisamente controcorrente in un tempo di superficialità e dell'io e adesso, ma anche di un impegno maggiore dei sacerdoti nei confronti della Chiesa e delle comunità. I sacerdoti sono molto in difficoltà e non teniamo conto che il numero dei sacerdoti come è noto è in calo e quindi devono farsi carico di un lavoro pastorale che è superiore rispetto a quanto avveniva nel passato. Le esequie del Vescovo Gardin si terranno venerdì alle 10.30 in cattedrale. Presiderà la funzione il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia.